Buongiorno a tutti, anche quest'anno siamo arrivati alla pausa estiva. Come sapete l'informatore agrario si ferma per tre settimane ma continueremo a raggiungervi attraverso l'edizione online, ovvero attraverso le nostre newsletter. Approfitteremo di questo periodo per presentarvi tutte le iniziative che stiamo organizzando per l'edizione del McFruit. Si svolgerà come sapete a Rimini dal 14 al 16 di settembre e vedrà ancora una volta l'informatore agrario partner di Cesena Fiere nell'organizzazione di workshop e incontri ad elevato contenuto tecnico. Anche quest'anno cureremo il premio innovazione ovvero produrremo un supplemento all'interno del quale troverete tutte le novità tecnologiche e tecniche che verranno presentate per la prima volta al McFruit a Rimini. Collegato al discorso al tema McFruit volevo introdurre in realtà una riflessione che abbiamo condotto proprio sulle pagine del nostro giornale attraverso un editoriale in modo particolare, l'editoriale di Angelo Frascarelli. Vi chiedo di partecipare all'iniziativa che verrà lanciata proprio attraverso le newslettere. Vi racconto velocemente il tema dell'editoriale. L'editoriale parla dell'agricoltura raccontata e dell'agricoltura invece in termini reali ovvero noi siamo abituati a sentire i mass media generalisti che parlano di un'agricoltura dalle grandi prospettive, dai grandi numeri, dalle grandi opportunità. La realtà dei numeri è leggermente diversa. Vi porto solo due dati. Dicono che negli ultimi 15 anni il reddito degli agricoltori europei è aumentato del 40%, quello degli agricoltori italiani del 14%. Gli occupati negli ultimi 15 anni in agricoltura sono calati di 100.000 unità. Leggetevi l'editoriale e esprimete la vostra opinione in merito a questo tema. A metà settembre i giornalisti dell'informatore agrario saranno al Markfruit. Venite lì, raggiungeteci a Rimini per esprimere la vostra opinione, per raccontarci di persona cosa pensate su questo tema che verrà appunto lanciato con le newsletter e anche per discutere di altre questioni che riguardano l'agricoltura. Inoltre vi ricordo che per iscrivervi agli workshop e vedere il programma completo di tutti gli incontri tecnici che organizzeremo al Markfruit potete consultare il sito internet ortofrutta.informatoreagrario.it